Erano trattati peggio delle bestie i braccianti sfruttati dai caporali, anzi erano considerati delle scimmie. Raccapriccianti le conversazioni intercettate dai finanziari di Cosenza nell'ambito dell'inchiesta Demetra, laboratori usati, sfruttati, uomini e donne utilizzati per il duro lavoro nei campi. Per i caporali non erano esseri umani, ma scimmie appunto, e se i braccianti avevano sete si poteva dar loro da bere l'acqua di un fosso di scolo. Ecco un'altra conversazione intercettata dagli inquirenti. Frasi raccapriccianti, il clima era di oppressione. Ecco quello che i caporali dicevano quando gli operai non arrivavano nei campi. Oltre 200 i lavoratori non solo sfruttati, ma anche lesi nella loro dignità.